Accertamenti sulle incongruenze tra il contenuto del verbale sintetico d'udienza e quello con la trascrizione della fonoregistrazione. Questa è la richiesta avanzata dei vertici dell'avvocatura potentina nel corso dell'incontro con il procuratore Francesco Curcio, dopo quanto accaduto all'avvocato Antonio Murano, finito sotto inchiesta dopo aver presentato un certificato medico per legittimo impedimento a presenziare ad un'udienza penale fissata per lo scorso 24 marzo. Gli avvocati contestano soprattutto le modalità attraverso le quali erano stati messi in campo, gli accertamenti investigativi a carico del penalista di Rionero in Vulture la prossima settimana si asterranno da tutte le udienze penali, civili ed amministrative in segno di protesta. Sciopero confermato in attesa che dalla procura nel giro di un mese arrivino chiarimenti sull'accaduto come evidenziato dal presidente della Camera Penale Distrettuale di Basilicata, l'avvocato Sergio Lapenna. Abbiamo rimarcato insieme al presidente dell'ordine ed una rappresentanza della Camera Penale e anche della Giunta con me a capo di questa delegazione come presidente della Camera Penale Distrettuale di Basilicata tutti gli scempi che sono stati fatti nella vicenda Murano, riteniamo e abbiamo chiesto con forza che venga fatto un accertamento sulla discrasia dei verbali. A noi non interessa il merito della vicenda, il collega si saprà difendere, a noi interessa invece le modalità che sono assolutamente da condannare. Il procuratore ci ha detto che nel giro di 20 giorni e un mese definirà la questione, ci ricontatterà. Speriamo che questo ha provocato sicuramente un vulnus nel rapporto tra procura ed avvocati e speriamo che col contributo di tutti si possa riemergere da questa situazione, ma atti gravi sono stati commessi e noi aspettiamo una risposta.